Una giornata al cardiopalma, mentre Barbara Minghetti allungava verso un ballottaggio sicuro. Alle sue spalle si consumava la lotta più serrata che, come ricordi, in tempi recenti. Voto su voto, Rapinese, Molteni, Rapinese, Molteni e ancora Rapinese. Uno stilicidio, scheda dopo scheda, con i due contendenti, Giordano Molteni, candidato del centrodestra, e Alessandro Rapinese, candidato dell'omonima lista civica, che si continuavano a sorpassare sezione dopo sezione. È arrivata la sera, poi la notte è ancora nulla. Le operazioni di spoglio si sono rallentate fino ad arenarsi a tre sezioni dalla fine. Rapinese, avanti di una manciata di voti, si ripeteva notte fonda, nel pieno di una sfida carica di adrenalina, seguita da decine di migliaia di cittadini su e-tv. Dieci ore in diretta e un record di ascolti per espansione tv, la maratona elettorale ha totalizzato oltre 200.000 contatti, permettendo a e-tv di salire sul podio delle emittenti lombarde più viste della giornata. Ma la copertura elettorale di e-tv non finisce qui. Appuntamenti, approfondimenti e dirette continueranno per seguire la corsa al ballottaggio fino all'elezione del nuovo sindaco di Como.